Grazie a tutti. A tratti, perfetto. Dove? A tratta. Dietro. Via dietro. Via dietro a costa. Via dietro a costa. Subito un'ambulanza. Subito. Ok, ok, ok. Vieni a riunta. Fu fatso tanto, sempre短. Maria,? Mario! Dai Zati. Mario? Mario lo sape? Di Benedetta. Mario, e venne a voz? Yes, perché mi ovviamente... Grazie a tutti.